Insomma, avevamo questo doppio impegno casalingo e l'abbiamo sfruttato al meglio. Oggi sicuramente meglio della partita precedente con Broni. C'è stata una grandissima intensità difensiva, soprattutto nei primi due quarti, molta concentrazione. È chiaro che quando si arriva a questo punto del campionato tutte le squadre cercano di dare il meglio. Torino e Moncaglieri, chiaramente come Broni, lottano per delle posizioni di bassa classifica, per la salvezza, perciò squadre comunque affamate. E noi dobbiamo essere lo stesso, perché comunque vogliamo consolidare la nostra posizione in classifica, che ancora di più dopo questa vittoria è al secondo posto, anche se è chiaro Venezia deve recuperare parecchie partite. Però direi che il nostro cammino fino adesso sia stato molto positivo, tenendo conto un po' di tutte le assenze che abbiamo avuto durante la stagione. Però adesso arriva il momento dove dobbiamo ancora capitalizzare di più. Domenica abbiamo una partita molto difficile sul campo della Geas, e anzi ci piacerebbe anche ribaltare un po' il risultato negativo dell'andata, ma soprattutto ancora vedere dei passi avanti. Perciò insomma, bene, finalmente abbiamo avuto due partite in casa dopo tante e tante trasferte. Questi due risultati positivi ci possono solo dare fiducia e chiaramente pensare con ottimismo al futuro. Grazie. 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 Grazie.